Nelle ultime settimane in questo spazio ci siamo occupati di pratiche inerenti fisco, lavoro, previdenza, gestite direttamente presso gli uffici CAF o di patronato in provincia di Modena. Spesso la complessità delle procedure obbliga la presenza ma ci sono pratiche che possono essere gestite online o con una presenza comunque limitata, in linea con le misure di sicurezza e con le difficoltà degli spostamenti del periodo. Con Pietro Bambara, consulente CAF Italia e patronato EPAS facciamo il punto sulle pratiche che è possibile gestire direttamente a distanza. Buonasera a tutti, noi abbiamo visto fino oggi quali e quanti pratiche possono essere comunque fatti presso i nostri centri. Chiaramente non tutti possono comunque raggiungere i nostri centri, si pensa ad esempio a motivi familiari oppure anche soltanto per la distanza che c'è fra ad esempio la propria abitazione, il proprio lavoro e appunto i nostri centri. Inoltre la situazione sanitaria impone delle limitazioni alla circolazione delle persone quindi per questi motivi la nostra federazione prima frattante nella regione ha inizialmente sperimentato l'elaborazione delle pratiche online. Nei mesi passati la nostra intuizione si è arricchita anche nei servizi e nelle offerte e si è sempre più diciamo specializzato. Tutti da casa con un semplice click e con l'assistenza sempre costante di un nostro consulente online può richiedere la gestione completamente online della propria domanda. Per farlo è semplice, basta semplicemente inviare una mail a pratiche online chiocciola.fna.emiliaromagna.it e specificare che cosa effettivamente si vuole richiedere. Entro un breve tempo si riceverà la risposta da parte del nostro staff che provvederà ad espletare la pratica e a chiedere quali documenti effettivamente sono necessari per poter concludere la pratica in modo positivo. Il servizio ovviamente è attivo per tutta la nostra provincia e contiamo di raggiungere quante più persone possibili soprattutto quelle che appunto hanno difficoltà proprio anche per motivi come dicevo prima familiari non possono raggiungere i nostri centri. Quindi se volete la gestione completamente online delle vostre pratiche potete scriverci a pratiche online chiocciola.fna.emiliaromagna.it ovviamente questo è un servizio aggiuntivo quindi se volete continuare comunque a venirci a trovare e a noi fa piacere potete trovarci a Modena, a Carpi, a Sassuolo, a Formigine, Maranello e a Pavullo oppure ci potete direttamente contattare tramite telefono allo 059 48 24 84 1 allo 059 48 2